buongiorno buongiorno dal dottor Claudio Sarasciro da benessere impreosi soluzione l'impreosi di cs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo di fiducia 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 fides fidarsi fidarsi che cosa a che fare la fiducia con la mente dell'essere umano ben la fiducia a che fare o meglio la mente umana a che fare con tutto l'impreosi dicesse vera e professionale la mezzo lo strumento la cave il non plus ultra per cambiare il tuo modo di vedere la vita perché c'è molta gente che non si fida di nessuno neanche contro l'evidenza perché da piccolina è stata ipnotizzata dai propri genitori a fin di bene a non fidarsi di nessuno a non prendere la famosa caramella e questo ha portato a non avere fiducia neanche della propria ombra ci sono i pro e contro bisogna anche essere coscienti del fatto che è più forte di te a non fidarti di nessuno ma non fidarti di nessuno significa per molte persone vivere male perché non si fidano neanche dei propri cari dei propri familiari di se stessi perché perché da piccolini hanno visto questo modello questo schema questo comportamento questo atteggiamento questo modo di pensare che è diventato poi il loro come si fa per uscirne per cambiare come si fa per cambiare come si fa per per cambiare scusate suonata la sveglia come si fa per cambiare per trasformarsi per vedere la vita in maniera diversa fidarsi al punto giusto con un equilibrio bene con l'ipnosi dicesse vera professionale non esiste nessuna altra formula ragazzi perché bisogna entrare nella parte della mente che ci comanda che il nostro subcosciente il nostro genio della lampada di aladino che influenza anche la nostra coscienza il 12 per cento della nostra mente il nostro destino la nostra vita visibile visibili i nostri comportamenti e comandare fargli cambiare idea cambiare le immagini che ci sono là dentro come fare ci sono diverse tecniche una delle quali anche utilizzare un audio mp3 dcs come ad esempio non passato negativo oppure altri audio oppure creare un audio personalizzato oppure fare delle sessioni online di ipnosi dcs vera professionale che al momento sono sospese per motivi di tempo di impegni e cambiare questo ragionare oppure sederti presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona iniziare questo percorso che abbia però già affrontato casi che ti riguardano cioè il fatto che tu non hai fiducia neanche in te stesso e quindi vivi male ok questo è il famoso trucco barbatrucco entrare nella nostra lampada del genio di aladino e dare dei comandi e sentirsi dare rispondere ogni tuo desiderio un ordine non ci sono altri trucchi barbatrucchi la mente così semplice e allo stesso tempo potentissima che purtroppo pochi capiscono i meccanismi in tutti i settori dalla salute al benessere alle relazioni alla ricchezza tutto di più senza se senza ma e poi io essendo di estrazione santomasiana se non vedo se non tocco non credo e la ti garantisco che ti invito anzi a provarci e vedere che cosa succede magari scaricando di un audio mp3 dcs dal sito dell'associazione iprologi associati e www.iprologiassociati.com che fa il caso tuo oppure del tuo caro perché l'ipnosi dcs e il metodo dcs funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto a chi non può essere aiutato perché c'è tanta gente buttata nel letto davanti alla tv che non vuole l'aiuto di nessuno né online né offline per vari motivi o poi c'è tanta altra gente che si vergogna ad andare presso qualche guru perché ha paura che qualche amico parente lo veda tu lo sai meglio di me per cui il metodo dcs è quello che fa parte unico al mondo fammi tutte le domande del caso visite il mio sito internet www.iprologiassociati.com visite la mia fanpage su facebook iprosi auto iprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel guide quella molla che gli cambia la vita come è successo a me anche a me nel 2008 e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e non ti curare di loro ma guarda e passa di suo famoso personaggio secoli fa nel senso scrivi scrivi commenta anche la domanda la più banale perché può essere d'aiuto a te ai tuoi cari a chiunque vedere un commento anche il più banale va bene perché ti può aiutare sinceramente a voltare pagina aspetto i tuoi commenti non soltanto in privato ma anche in pubblico e vediamo di smuovere chi ci sta guardando ascoltando per il loro bene il bene dei loro cari e mai dire mai ricordati ok rendi cosciente il tuo inconscio subconscio chiamalo come vuoi altrimenti sarà il tuo subconscio il tuo inconscio a guidare la tua vita tu o quella del tuo caro e tu lo chiamerai destino questa frase bellissima la coniata detta un famosissimo jung per altri young un famoso personaggio del passato di 100 anni fa un bacio un abbraccio al dottor claudio saracino alla prossima ciao